Ok, oggi giocheremo di nuovo a Fortnite, yay! Allora, vediamo come andrà questa partita, se sono migliorato da ieri, ho giocato ieri sera un pochino, vediamo se sono migliorato un pochino, ma sono sempre nabbo. Ok, io questa volta, visto che non ho ancora sbloccato tutta la mappa, perché appunto non ci ho giocato tanto, direi di andare in questo posto. Così sblocchiamo anche la mappa, però io ho paura, capito, di andare in posti strani. Perché boh... Vabbè, andiamo, andiamo, andiamo. Casomai muoio, eh... Però, cioè, allora, se io muoio deve finire il video, capite? Cioè, questo è il punto. Cioè, nel senso, non è proprio una challenge, anche perché penso che l'abbiano già fatta in tanti. Però comunque, cioè, nel senso, non è che voglio, capito, continuare il video, perché devo concluderlo se, se muoio. Cioè, è questo il topic. Eh, quindi cerchiamo di non morire subito. Sali, brutto schifo! Sali! No! Iniziamo bene, iniziamo molto bene, davvero. Pozzo tra... Eh? Traballante. Cosa? No, io sono scioccato da Fortnite. Allora, vai. Su. Vuoi aprire questo coso? Grazie. Oh, bene, bene. Perfetto, ho già preso un coso. Poi, lo scudo. Non mi ricordo come si chiama. Io mi ricordo che aveva un altro nome. Oh, bene, bene, un altro scudo. Allora, li prendo tutte e due, vai. Così, almeno, siamo protetti al 100%, cioè 200%, vabbè. Avete capito, no? Forza, adesso però cerchiamo di vivere. Ok, perfetto, perfetto. Uh, qua c'è un cecchino eppure un altro scudo. Mamma, bellissima questa cosa, cioè. Davvero top ad oro. Perfetto, forza, vai da questa parte. Un altro tesoro. Ma io ci sto trovando un sacco di cose. È il nuovo livello. 10, addirittura. Avete visto quanto ci ho giocato? Ma forse per quello che tutti quanti muoiono quando io sparo. Perché se no non morirebbero, secondo me. Boh, io la butto là, eh. La butto là, eh, 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 eh. Però se posso dirlo, mi sento più sicuro con questo fucile. Perché, boh, cioè, nel senso, ci sono più abituato. Non so se voi, cioè, voi cosa ne pensate? Perché quello, secondo me, è troppo lento. Non so, boh. Direi che è arrivata l'ora di andarsene. E ho pure raggiunto il livello 10. Magnifico. Perfetto, così. Ah, ah! Sono veramente un genio, certo, eh. Mamma mia, cioè. Vedete, cioè, io non è che muoio. Io muoio anche senza fare, senza giocatori. Cioè, questo è il punto. Immaginatevi cosa succederebbe se ci fosse, tipo, T-Few. In fondo al mar ci sono i pesci. Non ricordo com'era quella canzone. Però molto cringe sono. Perfetto, ho raggiunto un'isola dentro la zona. E, boh, cioè, io non ho ancora... Non ho ancora preso alcun materiale, praticamente. Cioè, ho solo 113 di legno. Cioè, che schifo. Devo prendere altro materiale. Tunisiani, aiuto. Poi, se arriva qualcuno e mi spara, mi tira una cecchinata. Io sono finito. Allora, io adesso provo a fare qualcosa. Perché, sinceramente, devo prendere anche, tipo, un... Boh, non lo so. Tipo una scala, un qualcosa. Cioè, capito? Emma. Raga? Andiamocene via per sempre. Ciao. No, 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 no. Non è fattibile questa cosa. No, sto sentendo gente. Arca il cacca. Perfetto, perfetto. L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Cioè, se... Madonna. Adesso... Ecco, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Arrivava quel tizio. Lo sapevo, lo sapevo. Brutto schifo. Aiuto. Aiuto. Dunisiani. Per favore. No. No. Allora, non è possibile, non è possibile. Non posso morire adesso. Ok, io mi sto curando, intanto. Dov'è? No. No. Per favore. No. 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 Dunisiani. Piango troppo. Brutto schifoso. Devi. Devi. Quindi, Dunisiani, questo video sarà durato tipo pochissimo, ma proprio poco, 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 poco. Ma l'ho detto, l'ho detto e l'ho fatto, quindi direi che grazie per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e spero che vi piaccia Fortnite. Fatemi sapere se volete altri episodi di Fortnite, perché io vedo che vi piace, quindi... Bene. E quindi, sì, riscatta, riscatta qualsiasi cosa, non me ne frega, cioè va bene. Ok, insomma, quindi grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete mazzo di chiavi nei commenti. Mazzo di chiavi. Sì. Perché così, capito, sono più contento. Così vi do anche il cuoricino se scrivete mazzo di chiavi. Ciao, Dunisiani.